Ciao a tutti, sono Trenzo Bozzone, professionista di triathlon e cinque volte campione del mondo. Come potete vedere, qui ci troviamo nella Global Health Clinics in Auckland e per anni ho lavorato a stretto contatto con il team della clinica, perché credo nell'approccio olistico. Quando sono in gara, due cose sono importanti per me. Quanto duramente mi posso allenare e quanto bene posso recuperare. Trovo che Cell Will Bing sia davvero importante per me. Prendo un piccolo campione di capelli, lo faccio analizzare e verifico la mia salute generale. Vedo quali sono le principali aree da migliorare per la mia salute, perché so che se posso migliorare il mio stato, alla fine saranno più alte le mie prestazioni nel triathlon. Una delle cose principali che emerge dall'analisi è una situazione ricorrente negli anni, ovvero le mie ghiandole su renali. È importante per noi atleti conoscere la quantità di allenamento e il carico che possiamo sopportare. Sapere quanto questo possa influenzare la nostra prestazione e il recupero. Avere energia ed equilibrio, anche per stare con i miei figli ed essere in grado di allenarmi e recuperare, è essenziale. So di avere nella mia vita tutto ciò che mi rende equilibrato e alla fine trovo che essere felice, in salute e anche in equilibrio, mi aiuterà ad avere le più alte prestazioni sportive. Per migliorare la performance, tutti gli sportivi dovrebbero conoscere e seguire i consigli e le informazioni che può rilevare il test S-Drive. S-Drive per lo sport, allenamento, recupero, potenza e resistenza per il tuo benessere e la prevenzione nello sport. Oggi puoi sperimentare la nuova tecnologia S-Drive che si basa su questi principi. Puoi conoscere in soli 12 minuti quali fattori stanno condizionando la tua salute e il tuo benessere. Chiamalo 0187 17 80 859 oppure scrivi a info at epinutracell.it